Come sottofondo usavo degli abiti, i titoli erano anche poi sezione su sezione che immaginavo anche una sorta di edulcorazione dello sport o manipolazione messa in pornografia di feticizzazione dello sport, quindi pensavo anche a piscine con cavalli, la possibilità di dipingere la balena che era spiaggiata sulla corsa degli struzzi e tutta la serie di birdwatching e gli audio originali erano acquistati all'edicole, quando le edicole stampavano queste stupide collezioni pseudonaturalistiche appunto.